La mia missione è quella di portare il movimento nella vita di tutti. Non parlo di movimento, movimento in generale, movimento consapevole, movimento avanzato, movimento pensato, movimento espressivo, movimento creativo, movimento generativo, movimento comunitario, movimento trasformativo, movimento che ci fa capire dove siamo al momento e come possiamo fare da questo momento in poi a cambiare e ad avere una postura migliore, una fisicità migliore, un'espressività migliore, un controllo del nostro corpo migliore, avere consapevolezza del nostro corpo in questa vita, corpo, tempio. E quindi è giusto che noi lo conosciamo, movimento introspettivo per conoscerci sempre di più e per poterci permettere un'integrazione sociale, portare un senso di comunità vera. Grazie a tutti.